Che dire ragazzi, io sinceramente non me l'aspettavo, non me l'aspettavo perché fino a qualche ora fa praticamente non era mai stato accostato alla Roma, anzi, Cumbullà era considerato da molti un giocatore vicinissimo alla Lazio e da alcuni anche all'Inter. Invece, stando all'ultimo aggiornamento di Gianluca Di Marzio, sembra che la Roma abbia praticamente già trovato un accordo con l'Ellas Verona, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Io, ecco, non mi aspettavo né le cifre né tantomeno l'accostamento del giocatore alla Roma perché ho sempre pensato che ormai avessimo virato su altri profili, non a caso ieri, anzi l'altro ieri ho fatto uscire un video sul possibile arrivo di Izzo, di Armando Izzo, il che ci fa capire quanto ormai i giornalisti siano in confusione totale. Viene fuori un nome il giorno prima e diventa un altro il giorno dopo dopo domani magari verrà fuori un altro, quindi io vi parlo di questa notizia sapendo bene che quando ci saranno le firme e la presentazione ufficiale si potrà effettivamente parlare di affare concluso. Prima di quella data per me sono tutte voci di mercato. Ve lo dico proprio adesso, cioè non voglio dare per certo nulla, non è che ho il cugino di mio zio, del fratello, del nipote, del nonno che lavora come magazziniere di un'azienda vicina all'Olimpico che sa... io non ho nessuna voce interna, parlo per quello che leggo, ho letto di queste informazioni, però al tempo stesso ci vado con i piedi di piombo, perché quando sarà ufficiale si potrà dire quello che volete. Lo stesso Cumbullà fino ad oggi era considerato fatto con l'Inter prima e con la Lazio poi, o viceversa, adesso non ricordo bene. Quindi dare per fatta questa voce è un conto, parlare di un forte interessamento della Roma è un altro. Di chi parliamo? Allora parliamo di un difensore albanese classe 2000 che è stato in quest'ultima stagione una delle più grandi sorprese non solo del Verona ma di tutto il campionato italiano. E non è un caso infatti che la stessa Lazio e l'Inter, squadre di un certo livello, si siano interessate fin dall'inizio del calciomercato. Il giocatore ha dimostrato in questa prima stagione ad alti livelli una buonissima attitudine difensiva, molto bravo negli anticipi sui avversari, molto bravo anche nel gioco aereo visto il suo metro e 90 di altezza, un fisico molto longilineo, diciamo, non è alla fazio nel senso comunque possente, è comunque alto ma anche magro, il che però non gli impedisce di essere bravo anche nei contrasti contro avversari, abbastanza forti fisicamente. Quindi finora si è dimostrato un difensore completo in tutto e per tutto. Quali sono però le preoccupazioni del tifoso medio giallorosso? A parte che continuiamo ad essere di un'incoerenza allucinante, perché prima non prendiamo nessuno e non spendiamo niente, e non prendiamo nessuno, giocheremo con questo, giocheremo con quell'altro, poi prendi un giocatore di prospetto, anche magari pagandolo tanto, e tu ma spendi troppo, e ma non va bene, ma devi prendere Smalling, non Cumbullà, ma chi è? Poi magari andava all'Inter, faceva bene, e ma tu questi giocatori non li prendi mai, punti sempre i giocatori scarsi. Ragazzi, allora, io so bene che questa mia analisi viene dettata dal fatto che, seguendo più pagine sulla Roma, seguendo più le opinioni dei romanisti, seguo più le impressioni loro che delle stante tifoserie, mi sembra una cosa ovvia. Però al tempo stesso io credo che certi tifosi non sappiano veramente a cosa aggrapparsi, anzi, sembra che addirittura sperino che succeda qualcosa di negativo per potersi lamentare, come se volessero trasformare la Roma in una sorta di valvola di sfogo. La Roma perde, oh, so su chi sfogarmi, mi sfogo su Fazio, mi sfogo su questo, mi sfogo su quell'altro, c'è sempre un motivo per rompere i coglioni. Detto questo, io non nego che l'investimento Cumbullà potrebbe essere rischioso, perché abbiamo provato tante volte in questi ultimi anni a prendere giovani talenti, spendendo anche cifre importanti e non sempre andata come ci si aspettava. Guardiamo gli esempi di Schick o, vista la stessa squadra di appartenenza, di Juan Manuel Eiturbe, preso al tempo per circa 25 milioni, che era una cifra molto più importante rispetto ad oggi e sappiamo tutti quanti alla fine come è andata. Ma io credo che rispetto allo stesso Eiturbe, a parte una differenza ovviamente di ruolo, c'è una differenza anche di aspettative. Tutti quanti quando arrivati a Eiturbe lo abbiamo considerato il colpo dell'anno, il giocatore perfetto per poter formare con Totti e Gervigno un attacco di indubbio livello e probabilmente questo, insieme ad alcuni problemi fisici, è stato uno dei problemi del giocatore prima argentino e poi paraguaiano. Il fatto di essere diventato all'improvviso un idolo della capitale, quando fino a qualche anno prima non giocava neanche con il Porto, con tutto rispetto per i portoghesi. Quindi, secondo me, ha influito anche questo. Nel caso di Kubula, arriverebbe con buone aspettative, ma non certamente con l'entusiasmo che invece aveva portato Eiturbe. E questo, secondo me, più che essere una cosa di svantaggio, può esserne una di vantaggio, perché permetteresse al giocatore di arrivare e giocare con tranquillità. Il giocatore è di piede destro, quindi, nonostante la similitudine con Ibagnes, non credo giocherà su quella zona del campo. È facile prevedere per lui un utilizzo, qualora dovesse arrivare, al centro della difesa oppure sulla destra come alternativa di Mancini. Giocherà a titolare uno o giocherà a titolare l'altro. L'arrivo di Kubula esclude totalmente quello di Smalling? Inizialmente io ho pensato subito questo. Pense, prendi un giocatore di 30 milioni, a 30 milioni con obbligo di riscatto, che vuol dire che tu comunque gli dovrai dare l'anno prossimo. È difficile pensare ad un investimento comunque importante su quella zona del campo, però ci ho ragionato un po' e poi sono arrivato anche a delle conferme in merito e, a quanto sembra, Kubula non esclude Smalling e questo mi farebbe tirare un grosso sospiro di sollievo. E diciamo che sarebbe una cosa abbastanza normale, perché se effettivamente Fonseca vuole giocare con la difesa 3, non puoi permetterti di prendere il solo Smalling. Serve un altro giocatore di livello forte, e in questo caso con un potenziale importante, per poter rendere il reparto più attento e più importante, appunto. La partita col Cagliari è stata proprio una conferma di quanto la Roma ha bisogno non solo di un difensore, ma anche di un altro, perché la scelta di Cristante come difensore centrale adattato è la conferma assoluta che non possiamo permetterci di rimanere con questa difesa. Cristante, poi magari ne parlerò anche in un altro video, si diceva potesse essere vicino al Torino tramite uno scambio appunto con Izzo, ma a questo punto penso che rimarrà ancora un altro anno, e lo ripeto, per me non è un giocatore scarso, però è stato preso nella Roma per fare un ruolo che non è nelle sue corde. Prima il regista, adesso addirittura il difensore. Sappiamo che non è proprio il massimo per un giocatore che ha fatto il meglio di sé inserendosi nell'area di rigore opposta, e quindi diciamo che secondo me è stato anche un segnale da parte di Fonseca alla dirigenza per fargli capire oh, io sto giocando con Cristante centrale, mi volete prendere un difensore di livello oppure no. Quindi, a quanto sembra, la trattativa sembra in fase avanzatissima, tant'è che addirittura domani potrebbe arrivare l'ufficialità di questo affare. Io, lo ripeto, non do per certo che la Roma chiuda subito questo affare, perché ci vorrà ancora un po' del tempo. L'importante però, a parer mio, è che almeno, guarda caso, con il Verona ci arrivi con un difensore dei due acquistato, che sia smalling o che sia con bolla. Se arrivassero entrambi sarebbe il massimo, però almeno uno dei due nelle prime giornate ce lo devi avere. Poi il mercato dura fino al 5 ottobre, quindi questo ti permette di avere la possibilità di gestire gli affari con più tempo. Però al tempo stesso, scusate la ripetizione, in questo lasso di tempo, e siamo a 4, si giocheranno tante partite, quindi queste partite devi comunque giocarle con dei buoni titolari. Poi, fino alla fine del 5 ottobre, sistemerai la rosa con i dovuti giocatori. Però al tempo stesso non puoi permetterti di mettere, che ne so, Fazzi e Guangesus titolari con la Juve alla seconda giornata, perché prenderesti un'imbarcata che veramente non vi sto qui a dire. Se poi addirittura dovesse concretizzarsi lo scambio, tra virgolette scambio perché non sono le stesse squadre, Milik-Dzeko, come centravanti titolari della Roma, ma sono convinto che il bosniaco con Fazzi e Guangesus si diverterebbe come Rocco Sifreddi in un'orgia, per farci per questo termine un pochino volgarotto. Però, a parte questo, sicuramente l'arrivo di Kumbula sarebbe importante. Si porta dietro quel alone di rischio, quello senza dubbio, però vorrebbe dire comunque che tu vuoi sì puntare sull'esperienza di Smalling, ma anche avere dei giocatori con un futuro positivo davanti a sé. E lo ripeto, se Inter e Lazio erano interessate fortemente al giocatore, un motivo c'è. Adesso sicuramente i giornali o i dirigenti stessi diranno eh, non eravamo veramente interessati, eh, c'era stato solo un sondaggio, non un vero interessamento. Succede sempre così, ma è successo anche da parte nostra. Succede sempre così quando un giocatore non va in una squadra per poco, diciamo. Però, al tempo stesso, io sono convinto che sia Inter che Lazio lo avrebbero preso tranquillamente. Quindi, se la Roma lo dovesse prendere, non cominciamo a dire eh, prendiamo gli scarti di Tizio e di Caio e Sempronio, perché comunque è un giocatore cercato da tanti. È un prospetto che ha un futuro radioso davanti a sé, un giocatore che ha già fatto vedere delle buonissime cose e, a parer mio, sarebbe, indipendentemente dal prezzo, un colpo importante. Anch'io questa mentalità del tipo eh, non mi va che spendano troppo. Magari invece altri dicono ma che te frega, mica sui soldi tuoi. Però, resta dell'idea che se tu spendi e vuoi spendere 30 milioni per Cumbullà, giovane prospetto, per la difesa, vuol dire che te lo puoi permettere. Quindi, io mi fido della dirigenza. Vedremo un po' come si evolverà questa trattativa e vedremo un po' alla fine del mercato estivo 2020 quale sarà il reparto difensivo giallorosso che affronterà tutta la stagione. Io sono convinto, comunque, e chiudo qua il video, che, mi dispiace per voi, ma almeno uno tra Fazio e One Jesus resterà. Perché pensare di togliere loro due, sostituirli eventualmente con Smalling e Cumbullà e giocare con la difesa a tre quando in realtà avresti quattro difensori contati mi sembra un po' in assurdo. Quindi credo che tra i due, sinceramente spero più Fazio, qualcuno resterà nella capitale. Se volete scrivetemi nei commenti chi vorreste che rimanga tra i due fenomeni? Fenomeni, per modo di dire. Un saluto dal vostro gladiatore giallorosso, fatemi sapere nei commenti inoltre cosa ne pensate dell'interessamento fortissimo della Roma per Cumbullà, un interessamento immediato ma quanto mai importante che potrebbe addirittura concretizzarsi già nella giornata di domani. Un saluto e ci vediamo molto presto per un prossimo video. Ciao ragazzi, e sempre Forza Roma! Ciao! 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 Grazie a tutti.